La pioggia del pineto è la più famosa fra le poesie di Gabriele D'Annunzio ed effettivamente è un testo veramente straordinario nel suo raccontare l'emozione di fondersi con la natura, l'incredibile sentimento che proviene dall'essere parte di un tutto e in qualche modo di perdersi dell'universo, nel mondo e nel mistero che esso cela. In termini tecnici questo è il panismo, cioè appunto da pan tutto ed è appunto l'emozione che si prova quando i confini tra l'io e il tutto diventano labili ed è una sorta di intuizione della profonda unità del cosmo ed è uno dei concetti alla base del decadentismo di cui D'Annunzio è uno straordinario esponente. Se questo è il primo grande tema della pioggia nel pineto, l'altro è la musicalità. D'Annunzio ci descrive la pioggia nel pineto come un concerto, ci sono tanti termini infatti che riguardano l'ambito semantico della musica e li troveremo via via. Perché la pioggia non è un suono indistinto per come ce lo presenta, ma è un suono che cambia, che cambia nel tempo e che del resto è composto da tanti suoni diversi. E questo suono viene anche reso in maniera molto abile dalle parole. Effettivamente sembra quasi di sentirsi parte dentro questo pineto durante la pioggia. In parte era un lapsus perché effettivamente per il panismo, come abbiamo detto, sentiamo parte del pineto. Andiamo a leggere questa poesia. In questa poesia. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie, lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini, scagliosi ed irti, piove sui mirti, divini, sulle ginestre fulgenti, di fiori accolti, sui ginefri folti, di coccole aulenti. Piove sui nostri volti, silvani, piove sulle nostre mani, ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri, che l'anima schiude, novella, sulla favola bella, che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Ecco, l'attenzione al suono. Taci, prima parola, taci a chi si rivolge? Si rivolge al lettore? In un certo senso sì, in realtà sta rivolgendo questa Ermione. Ermione, miticamente, è la figlia di Elena e Menelao, ma qui rappresenta la donna amata, Eleonora Duse. Ci troviamo, in effetti, in un pineto d'estate, nella tarda estate, e d'annunzio immagina di essere qui solo con la donna amata, ad ascoltare questa pioggia. E dice, taci. Vedete quanti verbi che riguardano il suono. Taci e soprattutto l'ascolto. Odo, odo, ascolta, ritorneranno più e più volte in tutte le strofe. Dice, taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove. Tra l'altro, retoricamente vorrei far notare questo. Odo, odo, epifora, parole, parole, anafora, con enjambement. Perché? Beh, perché sono due parole, due termini chiave. Udire, l'ascolto, e le parole. E queste parole, però, non sono umane. Non ci sono altri uomini, no? E bisogna ascoltare cosa? Beh, le parole della natura. Parole che sono più nuove e sono quelle di gocce e foglie lontane. Sono voci indistinte, confuse, ma, appunto, le voci della natura. Questo è un concetto fondamentale per l'annunzio. Il poeta, il poeta Vate, il superuomo, capace di avere una sensibilità straordinaria, è in grado di cogliere le parole segrete, il linguaggio segreto della natura, che, appunto, è parte di un tutto insieme a noi. Per questo possiamo entrare in una comunicazione. Una comunicazione, però, che è nuova, appunto. Parole più nuove, che non sono quelle umane. Sono quelle del cosmo, potremmo dire, che entrano in comunicazione con noi. Però bisogna essere disposti ad ascoltarle, avere questa sensibilità. Ascolta. Piove. Qui, piove, torna, anaforicamente. Piove, 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 piove. Scandisce proprio il ritmo della pioggia, no? E piove dappertutto. Piove dalle nuvole e scende questa pioggia dove? Su tutte le piante tipiche della macchia mediterranea. Le tamerici, salmastre, perché siamo in riva al mare, no? E quindi sulla costa tirrenica, come spesso capita, vicino al mare c'è il pineso, no? In Toscana. Ecco, qui, questa è l'ambientazione. Quindi sono per questo salmastre, tamerici e arse dal sole. Le tamerici, tra l'altro, sono una pianta che evoca Virgilio. L'annuncio è sempre molto colto. Comunque, piove sulle tamerici, salmastre e arse. Piove sui pini, siamo nel pineto, no? Scagliosi e irti. Piove sui mirti divini. Il mirto era sacro a venere. Quindi c'è un suggerimento sull'amore. Ecco, l'amore è partecipazione al tutto. Non è solo l'amore per la donna, ma anche l'amore che ci lega al mondo. Che è al mondo naturale. Le ginestre fulgenti, brillanti nel loro giallo, no? Che chiamano evidentemente leopardi. Di fiori raccolti e sui ginepri folti. Di coccole, cioè di bacche, aulenti, profumate. Termino molto caro. Aulente, ad annunzio. Profumate. E poi piove sui nostri volti silvani. E sulle nostre mani nude, sulle nostre vesti leggere. Ecco, questo è bello. Perché prima sta piovendo sulla natura e adesso piove anche su di noi, che ne siamo parte. E di fatti, e qui il panismo che viene evocato, i nostri volti sono diventati silvani. Come se fossero parte del bosco, no? Si, silva è la selva. Cioè, in latino, il bosco, la silva. I nostri volti silvani, quindi anche noi, siamo parte di questo bosco. E le nostre mani, sulle nostre mani. Come scade sulle piante, cade anche su di noi, sui nostri vesti. Leggeri. Leggeri perché è estate. E che, quindi, ci separano poco dal mondo. E poi ancora. Quindi siamo, allora, dalle nuvole, sui vegetali, sugli esseri umani, sui nostri volsci umani. Adesso su qualcosa di, non più concreto, ma astratto. I nostri pensieri. Sui freschi pensieri che l'anima schiude novella. E questi pensieri sono freschi. La pioggia, evidentemente, evoca il fresco. Ma soprattutto sono freschi perché sono nuovi. Vedete, l'anima, questa novella è riferita all'anima, è un'anima nuova che si schiude, tra l'altro anche questo è un termine che ricorda il mondo vegetale, no? Il mondo, come una... Anzi, più che vegetale, animale, perché potrebbe anche essere una gemma, ma soprattutto un uovo. Si schiude per generare una vita nuova. Ecco, questi pensieri schiusi sono nuovi. Perché? Perché non sono quelli della razionalità tipici umani, ma sono l'intuizione di essere parte del tutto. E il pensiero, l'anima stessa, è profondamente rinnovata da questa esperienza mistica che è la partecipazione alla vita sotto la pioggia. Ecco, questi piove sui nostri pensieri freschi di quest'anima rinnovata e sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. E cos'è questa favola bella? È l'amore. L'amore che di per sé è illusorio. Bisogna andare oltre il semplice amore, appunto, verso la partecipazione al tutto. Seconda strofa. Odi. La pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura. Nel c'è il cinerino. E il pino ha un suono. E il mirto, altro suono. E il ginepro, altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, da arbore a vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia. E le tue chiome auliscono, come le chiare ginestre. O creatura terrestre, che ha il nome. Ermione. Tutte le strofe finiscono con il nome di Ermione, della donna amata. Odi. Ecco, di nuovo l'ascolto, no? Ecco, la pioggia cade sulla solitaria verdura, cioè cade sulle piante. Con un crepitio che dura. E qui c'è la descrizione del suono. Non è un suono tutto uguale. Piano piano d'annunzio va a analizzare questo suono. Un crepitio, che è un termine anche onomatopeico in qualche modo, il crepitare della pioggia, no? Che dura e varia nell'aria, quindi che è variabile, a seconda che le fronde, cioè le foglie su cui cade, siano più rade o meno rade. Più rade, meno rade. Insomma, se cade sulle foglie fitte, è diverso che se cade sulle foglie più fonte. Ascolta, di nuovo. Odi, ascolta. Questo continuo richiamo, no? Al porsi in ascolto verso la natura. Risponde al pianto, il canto dell'ecicale. Il pianto è la foglia, scusate, è la pioggia. E il canto dell'ecicale. Ecco, il canto, termine della musica, è dell'ecicale. Quindi, comincia a comporsi il concerto. C'è la pioggia, ci sono anche di queste musica che fanno parte anche gli animali, con il loro canto. Cicale che non sono spaventate dal pianto australe, che è di nuovo la pioggia portata all'austro, vento del sud. E nemmeno il cielo grigio. E il pino ha un suono, e il mirto ha altro suono, e il ginepro ha altro ancora. Ecco, tutte queste piante evocate prima hanno un suono diverso, perché diversa è la superficie su cui cadono le gocce. E sono strumenti diversi sotto innumerevoli dita. Allora, questi sono strumenti, di nuovo, come se fosse un'orchestra, sotto innumerevoli dita. Le dita sono le gocce di pioggia. Quello che è veramente affascinante di questa poesia è che il mondo vegetale e naturale è descritto con termini che riguardano la sfera umana. Quindi le gocce di pioggia diventano dita, le cicale cantano, questi sono come strumenti, no? E invece, gli elementi umani, lo vedremo d'ora in avanti, sono continuamente rapportati al mondo vegetale, con metafore e similitudini. Perché? Perché da noi ci vuol dire che non c'è una netta separazione. Ciò che è naturale è anche umano, e ciò che è umano è anche naturale. Siamo parte di un tutto, e difatti, in questo concerto, noi siamo immersi nello spirito silvestre, lo spirito del bosco. Viventi di vita arborea, ecco, ci confendiamo con gli alberi. E il tuo volto ebro, tuo della donna, è molle di pioggia, come una foglia, similitudine, che rimanda però al mondo vegetale. Però soffermiamoci sul mondo ebro. Ebro vuol dire ebro, come se fosse un'ebbrezza, no? E sì, perché questa sensazione di panismo dà un senso di ebbrezza, appunto, l'ebbrezza che è data dalla nuova sensibilità, dall'anima che si rinnova. E le tue chiome profumano come le ginestre, ecco, i capelli sono come le ginestre, o creatura terrestre, che è il nome Hermione. Perché la chiama terrestre? È ovvio che non è divina, ma qui vuol dire che è legata alla terra, appunto, come le piante. Quindi, concerto, strumenti, sentimento panico, diffusione con la natura. Andiamo avanti, altre due strofe, che un po' ripetono questi concetti, ma li rendono più articolati e suggestivi. Ascolta, ascolta, l'accordo dell'erea ecicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce. Ma un canto vi si mesce, più rocco, che di laggiù sale dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne. Solo una nota, ancora trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non so, de voce dal mare, or so, de su tutta la fronda, crociare, l'argento è a pioggia, che monta, il crocio che varia, secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove, e piove sulle sue ciglia, Hermione. Ecco, ascolta, ascolta, solito concetto, l'accordo, è l'accordo altro termine del concerto, della musica, delle cicale che vivono nell'aria, per questo sono aeree, sono insetti, a poco a poco diventa più sordo, altro termine della musica, quindi più grave, e diventa più sordo sotto il pianto che cresce, cioè sotto la pioggia che diventa sempre più intensa. Ma un canto vi si mesce più rocco, arriva un altro canto, ecco. Come in un concerto c'erano diverse voci, in un vario coro, adesso arriva una seconda, la prima voce si abbassa, diventa più sorda, e adesso arriva un altro canto, più rocco, che sale di laggiù, da un'umbida ombra remota, da qualche pantano lontano. Non lo dice ancora, lo dirà poco dopo, è la rana, che gracida. Ecco, è più sordo e più fioco, quindi più sordo rispetto all'altro, a quello della cicala, diverso, ma è variabile, sa lenta, si spegne. Una nota trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non sode voce dal mare, or sode su tutta la fronda, crociare l'argento e la pioggia. Crociare è un altro termine onomatopeico. E ritorna, che la gente ha pioggia che monda, che pulisce, insomma, il crocio che varia, secondo la fronda, più folta, men folta, ascolta. Notiamo anche che in diversi punti, ad esempio qui, l'annuncio insiste su una stessa vocale tonica. Qui, per esempio, è la O, e questo perché il suono cambia e lui vuole evocare una certa sonorità costante. Secondo la fronda, più folta, men folta, ascolta, sempre la O è tonica, no? La figlia dell'aria è muta, la figlia dell'aria è la cicala, ma la figlia del limo, lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda. Chissà dove, chissà dove. Prima là, la figlia del limo, lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda. A e O, suoni tutti abbastanza aperti per evocare il gracidare della rana. Chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, di nuovo, la donna che parte del tutto. Piove sulle tue ciglia nere, c'è un rimando, no? Piove sulle tue ciglia nere, sì che par che tu pianga. Ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente. Parda scorza tuesca, e tutta la vita in noi, fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca, intatta. Tra le palpebre e gli occhi, son come polle, tra l'erbe. I denti negli alveoli, son come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde virgor rude, ci allacci i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui froschi pensieri, che l'anima schiude, novella, sulla favola bella, che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. La parte conclusiva dell'ultima strofa rimanda, in maniera praticamente letterale, alla parte conclusiva della seconda strofa. Ma vediamo la parte precedente, l'ultima strofa, la fusione uomo-natura è completa. Quindi piove sulle ciglia nere della donna, sì che pare che tu pianga, ma di piacere. Questo pianto apparente è il pianto, non della disperazione, ma dell'emozione. L'emozione, appunto, dell'essere parte del tutto. E poi non sei bianca, la pelle chiara è un attributo di bellezza, ma quasi fatta virente, cioè verde. Sembra che tu esca da una scorza, dalla corteccia. Questa è un'immagine classica. Le ninfe, le driadi, le ninfe dei boschi, uscivano dalla corteccia, dalle piante. Ecco, Ermione sembra, appunto, una driade, una creatura boschiva, e tutta la vita in noi fresca, profumata. E qui iniziano tutta una serie di similitudini tra elementi umani e elementi naturali. Il cuore nel petto è come una pesca intatta. Gli occhi tra le palpere sono come le polle tra l'erbe, come le pozzanghere. I denti negli alveoli sono come mandorle acerbe, quindi bianchissime. E andiamo di fratta in fratta, cioè cespugli in cespugli, ora congiunti, ora disciolti, quindi ora tenendoci, ora no. E il verde vigore, rude, quindi le piante, ci allacciano i malleoli, ci intricano i ginocchi, quindi ci arrivano fino a metà gamba, quasi ci fosse appunto la compenetrazione tra noi e la verdura. E poi piove sui nostri volti silvani, sui nostri malignude. E in questa abbiamo appunto l'anima, novella, che ci è data dal senso di partecipare al tutto. Una poesia davvero straordinaria.